Il volto di Madonna per i fanghi di Montecatini Terme che approdano così negli Stati Uniti in Cina, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Taiwan e Hong Kong. Il video promozionale realizzato per la linea cosmetica MDNA Skin, nel nome il richiamo alla cantante, dell'azienda MTJ Japan, è stato presentato dall'amministrazione comunale dai vertici delle Terme nel Salone Portoghesi del Tettuccio. Un'occasione eccezionale per il territorio e le sue eccellenze di visibilità nel mondo. Il marchio è infatti già distribuito ad esempio in molti aeroporti e profumerie asiatiche. Una giornata importante per le Terme di Montecatini perché l'acqua termale diventa un marchio importante e una testimonia all'altrettanto importante. Certamente perché il concetto che sta alle spalle di tutto questo progetto che ormai sono già diversi anni e stiamo portando avanti è la valorizzazione dell'acqua termale come base esclusiva dei cosmetici a firma Madonna. Ma soprattutto anche il territorio viene enfatizzato come vedrete nel video, cioè proprio una presentazione e una esaltazione del territorio dal quale nascono queste acque. Perché hanno preso proprio tutto l'iter creativo del prodotto finale e quindi hanno valorizzato non soltanto l'acqua come strumento terapeutico, in questo caso usato per fini cosmetici, ma anche tutto quello che sta materialmente alla base, quindi anche il sottosuolo e tutto il territorio e l'ambiente toscano. Ecco perché spesso ritornano i giapponesi proprio per far vedere ai loro collaboratori, ai loro clienti dove nascono queste acque. Capite bene che è un fenomeno mondiale come Madonna, una ditta che è una delle top, nella top ten, quando sono arrivato io in Giappone era la prima avanti alle grandissime ditte, perché tutti conosciamo Sony, Vabbè Itachi eccetera, era considerata la prima ditta giapponese per qualità di prodotto e per qualità del lavoro e per tutti i benefit che avevano i suoi laboratori. Quindi detto questo capite che non è che siamo rimasti spiazzati, ma siamo rimasti piacevolmente spiazzati da questa richiesta. Sappiamo che ora le cose sono andate avanti, abbiamo continuato a collaborare, se uno mi dice cosa ne viene a Montecatini, beh ne viene una pubblicità immensa. I went searching for the perfect clay to create a face mask and found it in a live volcano in Montecatini, Italy. At the foot of the mountains is a spa that's been known for its healing thermal waters.